In questa situazione, ancora una volta, l'uovo della donna risulta insieme coraggioso e determinante, come abbiamo sentito poc'anzi dalle parole delle persone premiate. Recenti ricerche ci dicono che più della metà della produzione del cibo mondiale passa attraverso le mani dei sapienti delle donne. Nei paesi in via di sviluppo questa percentuale arriva anche all'80%. Le donne, soprattutto, conoscono l'importanza del cibo per la vita dell'uomo. Una consapevolezza del futuro, un'attitudine alla visione, ha spinto le donne a lottare da sempre per la difesa dell'ambiente, per uno sviluppo compatibile, per valorizzare i prodotti della terra, per il diritto al cibo, alla salute, alla biodiversità. Le donne sono più capaci di produrre senza distruggere. Sanno costruire e innovare, tutelando e salvaguardando.